buon anno buon anno buon anno a tutti vi parlo del nuovo numero di rizza dedicato alla felicità noi abbiamo l'idea della felicità come qualcosa da conquistare una corsa verso la perfezione più più avrò fatto le cose giuste più sarò felice in realtà non è questa la strada per la felicità la felicità è uno stato autentico naturale spontaneo se uno dovesse dirmi dopo tanti anni che faccio questo lavoro quale sarebbe il nostro stato naturale saremo felici veramente felici se rimettessimo di dirci come dobbiamo essere la felicità è una spontaneità che sgorga come da una fontana da una sorgente inesauribile non ha niente a che vedere con la perfezione la felicità non ha niente a che vedere con l'idea che più lavoro su di me più mi sono comportato bene più ho fatto le cose giuste più sarò felice no no tra le tante mail che arrivano e tra le tante persone che vedo nei gruppi c'era una signora c'era una signora che diceva io vado a letto a dormire dormo veramente soltanto se ho accontentato tutti se mi sono occupata dei miei figli di mio marito delle mie amiche se hanno un problema di mia mamma di mio papà insomma il mio lavoro vero è accontentare tutti e quando vado a letto la sera sempre abbastanza tardi è perché veramente ho messo tutti tutti contenti sarebbe andato tutto bene se non fosse che a un certo punto in questa signora incominciano a venire degli attacchi di rabbia attacchi di rabbia violentissimi senza motivo immotivati una volta un'amica che le dice una cosa in tono un po troppo duro e lei reagisce con una violenza inaudita che non se l'aspettavano col bambino più piccolo col marito con gli amici con la mamma ed era spaventata perché mentre tutta la vita lei lottava per essere per essere la donna perfetta la donna che aveva in mente la donna che contentava tutti dentro di lei qualcosa assumeva un atteggiamento esattamente opposto si opponeva attacchi di rabbia attacchi di ira impazienza e la cosa che lei vantava va da letto a dormire per contatto tutti diventava una grande insonnia insonnia con tormento insonnia con ansia insonnia a cui il medico aveva consigliato psicofarmaci io quando una persona viene da me o delle cose scriviamo su rizzo io tutti gli esperti di rizzo i medici di psichiatri psicoterapeuti parto sempre dal presupposto che quando qualcosa accade in questo caso l'impazienza la rabbia di questa signora è sempre una voce che vuol dirci qualcosa voi direte cosa c'entra tutto questo con la felicità c'entra tantissimo perché se dovete fare un proposito per il 2020 io sono contrario ai buoni propositi fate il proposito di andare d'accordo con quello che voi chiamate il vostro lato peggiore andare d'accordo con la vostra paura andare d'accordo con la vostra ansia andare d'accordo con quella donna o con quell'uomo che c'è dentro di voi che non sta nei paletti nei recinti in cui lo vorremmo mettere e allora ho detto a questa signora come la immagina la donna che lei vede tutti i giorni nella sua vita a me le immagino chiuda gli occhi a me le chiude gli occhi me le immagino molto carina gentile che tutti la rispettano che tutti gli dicono grazie come sei stata brava chiamiamo la michela o michela meno male che ci sei tu che ti occupi di tutto bravissima michela perfetta michela è quella che perde la pazienza per niente quella che fa litigate mostruose quella che non dorme mai a quella per me la chiamo la donna inferiore inferiore come ma si inferiore proprio brutta cattiva stupida bene e così siamo andati avanti qualche seduta finché in una seduta io le ho detto beh adesso queste due donne quella stupida inferiore eccetera e quella condiscendente che tutti amano tutti adorano mettiamole vicine a pranzare insieme una vicino all'altra no 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 mi fa troppo schifo provi e così dopo due o tre volte potete farlo anche a casa se volete potete identificare il vostro lato peggiore metterlo vicino al vostro lato migliore immaginare come due donne due uomini differenti e così un giorno lei gli ha offerto un cucchiaino di miele e si accorgeva che quella donna che lei chiamava inferiore pendeva da lei dalle sue labbra ho incominciato a piangere per la compassione che provavo le accarezzavo i capelli e io non ho mai sentito arrivare un'ondata di felicità così forte buona lettura